70 scatolette di tonno e 168 di carne, 95 contenitori di adesivo per protesi dentarie e 48 confezioni di creme cosmetiche. E' con questo insolito bottino che la polizia stradale ha sorpreso tre cittadini gergiani denunciati adesso per ricettazione. E' successo sabato pomeriggio quando lungo la 1 nei pressi del casello di Arezzo una pattuglia della sottosezione di Battifolle ha fermato per un controllo di routine una Renault Clio con targa italiana e con tre persone a bordo. Di queste solo il conducente era in possesso di un documento di identità e di una fedina penale immacolata mentre gli altri due, oltre che senza documenti, risultavano avere diversi precedenti soprattutto per furti nei supermercati. Gli agenti hanno quindi effettuato un'accurata perquisizione dell'auto e dal bagagliaio sono saltati fuori centinaia di prodotti. Tutto il materiale era dentro due grandi borse schermate al fine di eludere i sistemi di antitaccheggio dei negozi. Sono dunque partite le indagini per individuare il luogo e l'azienda in cui erano stati commessi furti. Tutto il materiale trovato all'interno del bagagliaio era infatti stato sottratto da un noto supermercato del capoluogo toscano.